Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, come sempre, ben ritrovati qui nel disordine della mia biblioteca. Torniamo finalmente a parlare di libri dopo un po' di tempo, torniamo a tirare fuori i miei pocket longanesi, nella fattispecie questo, intitolato Per un milione di morti. L'autore è Tameichi Hara con Fred Saito e Roger Pinot. Chi era Tameichi Hara? Era un ufficiale della Marina Imperiale Giapponese, comandante di caccia torpediniere e che fu comandante dell'incrociatore leggero Yahagi durante l'ultima tragica crociera della Marina Imperiale Giapponese con la spedizione suicida della corazzata Yamato verso Okinawa. Sopravvissuto alla guerra e tornato alla vita civile, Hara, negli anni 50, ci lasciò questo interessante volume di memorie. Ci parla della sua vita, della sua carriera militare e affronta in maniera sorprendente per un giapponese con una chiarezza, con una sincerità, con una mancanza di filtri molto sorprendente per un giapponese le vicende della Marina Imperiale Giapponese. Che cosa accadde alla Marina Giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale? I motivi della guerra, il modo in cui i giapponesi affrontarono la guerra, gli errori che portarono la Marina Giapponese alla disastrosa sconfitta del 1945. Un libro che nonostante l'età è molto utile per comprendere essenzialmente anche una cosa la abissale differenza di mentalità, di cultura, di storia, di abitudini, di comportamento dei giapponesi rispetto ai loro avversari anglo-americani. Un abisso culturale e mentale che spinse i giapponesi alla rovina perché la loro, come dire, e ce lo spiega anche Hara in questo libro, la loro mancanza di elasticità mentale, la loro totale e assoluta devozione alla forma, alla gerarchia, agli ordini eccetera, costò estremamente caro alla Marina Imperiale Giapponese e al Giappone perché non riuscirono a comprendere fino in fondo l'avversario che avevano di fronte. Si è detto molto spesso che i giapponesi avevano molto sottovalutato la determinazione e il coraggio degli americani e degli inglesi. Questo libro, come dire, ce lo dimostra, cioè questo libro Hara dice più di una volta di essere rimasto, come dire, sorpreso dalla determinazione e dal modo in cui gli americani combattevano. Sorpresa perché venivano descritti agli ufficiali, ai soldati, ai marinai giapponesi, gli americani, venivano descritti come un popolo decadente, barbaro, barbarico e destinato alla sconfitta perché non conoscevano né valore né onore. Beh, mai, mai valutazione fu più sbagliata e la storia dei durissimi anni di guerra dopo Pearl Harbor parla estremamente chiaro. Il Giappone giocò d'azzardo, lo dice anche, lo dicono anche le parole di Hara. Hara era uno dei comandanti di nave del famoso Tokyo Express, ovvero sia il, come dire, il convoglio, praticamente la forza di incrociatori leggeri e cacciatorpedinieri che da truck riforniva che da Bougainville e Truc riforniva Guadalcanal durante la famosa e terribile battaglia. Ci racconta la sua vita, le sue vicende, ci racconta Tamei Chihara quello che ha fatto durante la seconda guerra mondiale. Dicevo, sorprendentemente per un giapponese parla con pochi filtri, con poche remore, con una sorprendente sincerità perché, come dire, siamo sinceri, i giapponesi quando si tratta di affrontare la faccenda della sconfitta durante la seconda guerra mondiale, diciamo che qualche problemino ce l'hanno e non sono il primo e il solo a dirlo. Basti vedere come dire certe paragrafi che usano per girare attorno alla capitolazione del settembre 1945, ma questo è anche un fattore antropologico e culturale sul quale, mettiamola così, un video come questo non può soffermarsi troppo lungo per non diventare una verbosa pappardella da parte di un ignorante con la terza media. Allora, dicevo comunque che questo libro rimane estremamente interessante per la testimonianza di uno dei protagonisti delle più spettacolari azioni della marina imperiale giapponese durante la seconda guerra mondiale. Con le sue navi, il cacciatorpediniere Hamakaze e soprattutto il cacciatorpediniere Shigure, Ara fece autentici prodigi, poi fu destinato a una scuola per aspiranti kamikaze, era uno di quelli che doveva addestrare all'uso dei barchini suicidi i giovani maninai, cosa che Ara dice sempre di aver trovato criminale e soprattutto demenziale. Rimane un libro estremamente godibile che ha il pregio, anche se sono passati più di 60 anni dalla sua pubblicazione, ha il pregio di essere estremamente attuale come lettura. Logicamente tante cose, tipo per esempio il ruolo della decifrazione dei codici magic, sul teatro del Pacifico non c'era ultra, c'era magic che praticamente decifrava i codici giapponesi. E tante cose quando Ara scriveva questo libro non erano conosciute, però col senno di poi, con le nostre conoscenze attuali, è utile tuttora questo libro per gettare uno sguardo sulla mentalità giapponese, su come i giapponesi combatterono la guerra, su come si avviarono la sconfitta grazie ai loro errori, alla loro cecità, alla loro incapacità di sopperire alle varie problematiche, insomma di rimediare alle varie problematiche che si presentavano durante la guerra. Molti hanno detto che i giapponesi durante la seconda guerra mondiale si comportarono non come soldati, non come un esercito, non come una marina combattente, si comportarono come uno sciame di insetti da guerra, ovvero sia sempre all'attacco, feroci, spietati, sempre all'attacco, ma che alla fine soccombono perché i loro attacchi non sono coordinati e vengono sopraffatti dall'insetticida. Sia chiaro, non è un commento razzista, è semplicemente una considerazione fatta come esempio da parte di un amico che me l'ha suggerita e che trovo molto calzante con il comportamento dei combattenti giapponesi durante la seconda guerra mondiale. Non erano soldati, non erano guerrieri, erano né più né meno uno sciame di insetti da guerra. Si comportavano così. Dicevo, Hara ci racconta la sua storia, racconta in maniera vivissima, in maniera estremamente efficace l'affondamento della sua ultima nave, l'incrociatore leggero Yahagi durante la tragica missione suicida della Yamato. Un libro che tuttora si trova molto facilmente nelle bancarelle dell'usato, un libro che vi consiglio caldamente di leggere. Ripeto, sono passati tantissimi anni dalla sua pubblicazione, ma letto con le nostre conoscenze di ora, è estremamente utile per entrare nella mentalità, nella cultura e nel modo di agire della marina giapponese e dei giapponesi stessi durante la seconda guerra mondiale. Tutto qui. Quindi, ripeto, per un milione di morti di Tamehi Chihara, Fred Saito e Roger Pinot. Un ottimo libro, un'ottima lettura. Tutto qua. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e, come sempre, buona serata e arrivederci al mio prossimo video.